Benvenuti alla resegna stampa di oggi, venerdì 2 settembre 2022, siete sul canale 19 di Fano TV, il canale 19 e il digitale terrestre, un saluto anche naturalmente a chi ci segue invece sui social, su internet, lì il canale non serve e allora cominciamo con il santo del giorno e poi vediamo le previsioni del tempo, il santo e santo Elpidio oggi 6.32 l'alba mentre il tramonto alle 19.43. Giornata ventosa come vedete questa mattina sul lungomare di Senigallia in provincia di Ancona con il mare piuttosto agitato, mai visto forse nel corso di questa estate un mare così, vedete le palme che si muovono e i mezzi che stanno comunque in riva al mare pulendo, ripulendo la spiaggia, però ecco quello che colpisce certamente il mare increspato, quindi insomma questo vento che soffia dal mare verso la costa. Allora adesso andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di oggi, venerdì 2 settembre, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, avremo per la giornata odierna a cielo poco o parzialmente nuvoloso per il transito di lievi stratificazioni, però come vedete i venti saranno settentrionali di brezza tesa con rinforzi di vento moderato lungo la fascia costiera, verso sera ruoteranno dai quadranti occidentali sui settori interni, il mare, attenzione, mosso con moto ondoso in attenuazione però nel pomeriggio. Domani invece avremo tempo perturbato, vedete anche sulla costa anconetana, ma insomma facile che qualcosa arrivi anche sul resto della costa, non solo quella centrale della nostra regione, domani infatti nel corso del pomeriggio avremo rovescio temporali sparsi localmente di forte intensità, fenomeni che si esauriranno nel corso della serata. Poi la giornata di domenica invece, quindi siamo nel fine settimana, il primo fine settimana di settembre, ancora al mattino locali rovesci in intensificazione e diffusione nel corso del pomeriggio, quindi c'è da aspettarsi comunque una domenica non certamente da trascorrere al mare. Al mattino questi rovesci, poi il pomeriggio insomma si diffonderanno e le temperature minime saranno in lieve aumento, le massime senza variazione di rilievo, mentre l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di tempo buono. Verrebbe da dire sposa bagnata, sposa fortunata, comunque Gimbo e Chiara, il volo più bello, questa è la fotonotizia del resto del carino edizione di Pesaro, il sì del campione del salto in alto davanti all'amore della sua vita, 200 invitati a Villa Imperiale, ufficiava il sindaco Ricci, la sfilata dei tanti atleti amici, Jacobs, Tortu, poi Bebe, insomma ce ne sono diversi, lì dice sarò felice di darti la bambina che vuoi. Poi ferrovia e questa invece è la notizia di cui parleremo tra poco, la notizia sicuramente in primo piano perché si parla dell'arretramento della ferrovia che passa da Pesaro fino a Falconara, in particolare il tratto Pesaro-Fano, sono due città sicuramente più importanti che vedono appunto arretrare, non mi chiedete quando, ma comunque l'arretramento di questa ferrovia quindi verrà spostata dall'attuale posizione, quindi a ridosso dell'acqua, del mare nell'entroterra. Anche qui bisognerà capire, vedere come, dove, quando e quali saranno gli effetti sul territorio. Comunque intanto ci limitiamo ai titoli e comunque al fatto che questo progetto che sembrava impossibile, futuristico, fantascientifico direi, oserei dire, in realtà a quanto pare si realizzerà. Dal Ministero infatti è arrivato l'ok ufficiale a questo progetto, il tracciato spostato dal centro delle due città, quindi nell'entroterra. La felicità dei sindaci, i sindaci sono ovviamente quelli di Fano, quello di Fano e quello di Pesaro. Mentre al Gran Premio, e qui parliamo di motociclismo, il Gran Premio di Misano correranno disegnate da un artista canadese queste, queste grafiche, questi disegni, livree speciali per queste moto e Tavulia Vale è pronta, il marchio Tavulia Vale, grande festa nel fine settimana. Poi, sempre dalla prima pagina del resto del Carlino, vediamo le altre notizie. Allora, c'è un caso, niente affitto per gli stranieri, nessuno li vuole. Poi, il ricordo invece del ristoratore, quando Gorbi, cioè Gorbaciov, recentemente scomparso, andava a mangiare il pesce da Alceo. E poi sotto il Duomo Stracolmo, invece a Urbino, per l'addio a Manuela, l'ultimo saluto alla pizzaiola. Ruba 40 succhi di frutta al market, il fatto è successo all'ipercoppe di Pesaro, e lui è stato preso un 25enne per sfuggire, ha anche strattonato la guardia e adesso è accusato di rapina impropria. Il Corriere Adriatico, invece, sempre la fotonotizia, anche il Corriere ha deciso di dedicarla al campione di salto in alto, Gimbo, che si è unito in matrimonio con Chiara, sposi tra petali di rosa, una parata di stelle per le nozze appunto di Tamberi, ferrovia sia al bypass Peserofano, disco verde per l'arretramento, tracciato, deviato fino a Torrette, ma si studia come prolungarlo oltre Marotta. Riccesseri parlano di una svolta epocale. Il Ministro Giovannini, investimenti sull'Adriatica per rompere l'isolamento, l'isolamento nel quale ovviamente le marche sono tuttora, ci resteranno ancora per tanto tempo, perché comunque sappiamo tutti benissimo che chi vuole andare a Milano o vuole andare a Roma, per esempio, in treno, così come con altri mezzi, insomma, è un po' difficile, soprattutto con il treno. Gambini ha scelto una donna come vice, invece stiamo parlando del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, che ha sciolto le riserve annunciando il nuovo vice sindaco che è Marianna Vetri, e lo vedete qui di spalla. Mentre, sempre dalla prima del Corriere, Tari, la tassa sui rifiuti, per il super bonus, già oltre mille richieste, ma le richieste in questo caso si riferiscono solo ed esclusivamente per coloro che abitano nel Comune di Pesaro, che ha stanziato un fondo di 200.000 euro, e agosto si è chiuso con una valanga di domande. Quindi questo dà, insomma, il senso un po' di tutto quello che stiamo vivendo, cioè gente che ha bisogno di soldi e che non arriva, appunto, a far quadrare i conti domestici. Caro Bollette, il Conte Pino gli dice hotel aperti, ma al limite, se proprio non ce la faccio, chiudo qualche piano, per il resto comunque li teniamo aperti. Adesso invece, con l'aiuto dei quotidiani, andiamo a vedere come sarà questa nuova ferrovia adriatica. Andiamo sul giornale. Intanto qui di spalla vedete i tre protagonisti, diciamo, o perlomeno quello che hanno detto in riferimento a questo progetto. Intanto il Ministro Enrico Giovannini che dice cambiamento profondo consentirà di superare divari storici, migliorando le opportunità di sviluppo economico, di territori adriatici e la qualità della vita. Sotto invece Francesco Corolli che dice il piano ha compiuto un significativo passo in avanti, poiché riguarda l'intero territorio marchigiano con effetti importanti, più risorse e progettazione unica. Poi Matteo Ricci, risultato straordinario, libererà la costa del nord dalla ferrovia e ci consentirà di trasformare i binari in green line, la nuova circonvalazione sostenibile. Poi la ferrovia adriatica, ecco il progetto, la nuova linea fino a Falconara, più fondi per il bypass e nel primo stralcio c'è anche Fano, vecchio tracciato come metropolitana di superficie. Questo è il quadro del piano per l'alta velocità soprattutto perché poi ecco quando dicevo appunto di andare a Milano, insomma per prendere poi un treno super veloce o comunque veloce con l'alta velocità bisogna arrivare fino a Bologna. Ecco qua allora il tracciato come vedete che a un certo punto, adesso non sto qua a spiegarvi tutto, ma comunque vedete Fano e Pesaro, in questo momento la linea ferroviaria passa qui, vedete dove c'è il nero, ecco domani passerà qua appunto dove c'è il rosso. Ma qui vediamo semplicemente delle linee ma bisognerà poi andare nel territorio e vedere che cosa succederà perché per realizzare un'opera, una infrastruttura così importante chiaramente anche in questo caso bisognerà deturpare tra virgolette o comunque utilizzare il territorio. Quindi probabilmente assisteremo a delle proteste e tutto quello che ne consegue tutte le volte che esproprio e quant'altro ogni volta che c'è da compiere una opera e una infrastruttura viaria come per esempio una ferrovia. Il bypass Fano svolta epocale, libereremo la costa adriatica dei treni, per Ricci l'arretramento della ferrovia è un risultato storico mentre Seri plaude al lavoro di squadra. Chiaramente loro come politici in questo momento se la suonano, se la cantano e di conseguenza insomma si incensano dicendo come siamo stati bravi, come stiamo stati bravi e quindi i politici fanno i politici. Poi bisognerà, ripeto, vedere a lato pratico quali saranno i risvolti sotto tanti punti di vista, ma che adesso non abbiamo tempo di analizzare insieme. Lo faremo, lo farete nel corso dei prossimi tempi. Allora, mister volare invece al Sanzio, ecco questo a proposito di trasporti eccetera, c'è questo aeroporto marchigiano un po' sfortunato, nel tempo non è mai riuscito a decollare nel vero senso della parola, però insomma a questo punto speriamo che sia la volta buona come si dice. Mister volare comunque è questo signore qua che ecco vi faccio vedere adesso allargando la foto a pieno schermo, si chiama Alexander Dorsogna ed è il nuovo amministratore delegato dell'aeroporto delle Marche e stando a quello che scrivono i giornali pare uno che se ne intenda. Dobbiamo rendere, dice, accessibili i principali hub europei che sono il collegamento con le grandi capitali, voglio proseguire il buon lavoro di Bassetti, i dati di traffico aumentano, bisogna incrementarli. Qual è la ricetta? E beh, insomma, la troverete penso leggendo l'articolo della collega Sara Ferreri, intanto questo top manager chiamato a rilanciare l'aeroporto delle Marche dice occorrono rotte pianificate in anticipo per portare nel mondo i prodotti d'eccellenza regionale. Questa è un po' la sua ricetta, poi chiaramente bisognerà leggere nel dettaglio l'intervista. Mentre c'è un'opera infrastrutturale, una nuova strada che sta facendo perdere il sonno ormai a tante persone che abitano soprattutto in un quartiere di Fano che si chiama Gimarra, ma qualcuno sostiene che c'è anche qualcun altro che lì non ci abita, ma che solo ha il pensiero di vedere tutto quel cemento steso in mezzo ai boschi, in mezzo al verde, insomma c'è qualcuno che non dorme lo stesso, anche se non è interessato perché magari lì non ha la casa, non ha la villa. Gimarra la soluzione c'è da due anni, si tratta del progetto dell'ex ingegnere capo Sorbini che però dice e ammette costa il doppio, quindi 40 milioni di euro rispetto ai 20 milioni che ci sono già e che la regione Marche con Luca Ceriscioli all'epoca a guidare appunto la regione aveva dato all'amministrazione fanese, cioè li aveva messi lì per realizzare quest'opera. Costa il doppio però dicevamo 40 milioni ma in linea con i dettami della sovrintendenza. Questo è un articolo di Maurizio Gennari sul giornale di oggi che è interessante perché comunque ecco come dicevo ieri ci fa capire che c'è una soluzione alternativa a quella che invece vuol portare avanti a tutti i costi l'amministrazione comunale. Ma perché l'amministrazione la vuol portare avanti a tutti i costi? Perché c'ha i soldi, ci sono 20 milioni di euro, lì il rischio è quello di perderli, ecco. Però anche questo non è che sia il massimo, cioè uno perché c'ha i soldi deve per forza fare, cioè capito, se un vestito è brutto è brutto, non è che perché c'hai 20 euro te lo devi andare a comprare, se no mamma non te li dà più. Bisogna che sia bello, se no fai la figuraccia comunque, ecco. Allora bisogna cercare di capire un po' bene questa situazione che non è che sia, anche perché poi in questo articolo ci sono alcuni pareri come per esempio quello di Renato Claudio Minardi che si prodigò molto per portare e per far avere questi soldi alla città di Fano e ci riuscì appunto. E ora dice, la colpa vera, dice Minardi, è che il Comune di Fano aveva quattro anni di tempo per studiare bene le carte. In realtà è un po' come dire, è arrivato all'ultimo minuto e adesso si ritrova lì con questi soldi, li deve usare per forza eccetera. Però ecco, la fretta fa sempre i gattini ciechi. Renato Minardi, l'uomo che ha portato i 20 milioni a Fano, scrive il giornale, io spero, dice che quei soldi che non possono essere usati per altre opere non vadano perduti perché il tempo scade alla fine di quest'anno. Come dire, quei 20 milioni sono ed esclusivamente per quel progetto. Ecco, il vero problema, dice Minardi, è che per fare un progetto hanno avuto quattro anni e quindi si poteva forse fare meglio, si poteva studiare meglio, non lo so. Poi c'è anche un'altra, in questo articolo si legge un'altra ipotesi, un'altra possibilità che è quella di chiedere un mutuo per aumentare questi 20 milioni e quindi fare un progetto diverso. Quindi potrebbe essere questo progetto, quello dell'ingegner capo Sorbini. Ecco, questo qua. Però bisogna vedere se il Comune ha intenzione di accendere i mutui e quant'altro. Poi sotto invece, sempre sulla variante di Gimarra e la galleria, il Comune rifà i conti, l'Udc attacca, se ria fallito si dimetta. Sull'interquartiere il Comune dunque rifà i conti, i tecnici all'opera per definire il costo della galleria artificiale, quella che dal Carmine va alla Statale 16. Insomma, anche qui, soprattutto in questo articolo, prendono la parola i vari esponenti politici cittadini, i quali ovviamente al Sindaco non gliela mandano a dire. Il Corriere invece titola variante, necessari altri 10 milioni, i conti per le gallerie sono noti da tempo, parere della sovrintendenza prevedibile, il problema invece è stato ignorato dalla Giunta ed è una contraddizione con il piano regolatore generale. Questo è l'articolo invece di Lorenzo Furlani, che parla di forte impatto paesaggistico delle opere e la scadenza fissata al 31 dicembre per l'utilizzo dei 20 milioni di euro di finanziamento statale. Sono questi gli ostacoli in ordine di priorità alla realizzazione della variante di Gimarra e degli interquartieri, secondo lo studio di infattibilità, della società Abacus. Ok? Quindi ecco, poi c'è questa cosa comunque che io devo spendere questi soldi dentro una determinata, se no me li tolgono, che chiaramente complica un po' tutte le cose e non mette le serenità certamente nella mente e negli animi. Auto a fuoco nella notte invece, questo è l'articolo che troverete sulla pagina sempre di Fano del Corriere, è un episodio che è accaduto in via della scuola, ieri pomeriggio calcinacci sono caduti invece in via Saffi, ed è un articolo di cronaca che appunto riguarda la città di Fano. Poi invece Roberto Giungi del Corriere ha partecipato a Cartoceto, a Lucrezia, anzi al funerale di Fabrizio Agostini, detto Bicio, che è il 43enne, celibe, scrive sempre Giungi persona buona e amata da chi lo conosceva, che è morto a seguito di un incidente stradale. Questa collisione tra lo scooter su cui viaggiava appunto Agostini ed un'auto con a bordo una famiglia di turisti tedeschi che stava svoltando a sinistra per compiere una manovra di inversione di marcia nel momento in cui Fabrizio era invece in una fase di sorpasso e le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime, il 43enne ispirato poco dopo il primo intervento per rianimarlo e niente c'è stato questo funerale come vedete sotto un cielo plumbeo, ieri una giornata di pioggia, l'ultimo abbraccio di Lucrezia appunto a Bicio. Invece sempre restando a Fano, era già ai domiciliari, gli trovano la droga in giardino. Un giovane che è stato arrestato di nuovo si difende, un mio parente ha nascosto quella marijuana, come dire mi hanno teso una trappola, la droga nel giardino scatta l'arresto ma per l'imputato sarebbe stato un parente a farlo finire nei guai per vecchi attriti familiari. Mercoledì pomeriggio i militari della guardia di finanza di Fano sono andati diretti nell'abitazione di questo 31enne di origini campane residente a Fano, una perquisizione a colpo sicuro derivata presumibilmente da una fonte che parlava di un giro di spaccio attorno all'abitazione del giovane. Così i militari hanno trovato nascosto sotto una pianta un parente di marijuana da 200 grammi confezionato e sigillato. Il giovane già costretto agli arresti domiciliari per via di un precedente patteggiamento per droga è stato così nuovamente arrestato. Andiamo adesso avanti nella pagina di Urbino invece del resto del Carlino le fotografie di un altro funerale quello di una donna molto amata dagli urbinati e non solo immagino ma tutti quelli che sono passati di lì quindi possiamo immaginare tutti gli studenti universitari che hanno apprezzato il buon cibo di Manuela Bartolucci. Duomo stracolmo di cittadini per la cerimonia funebre della Bartolucci, l'amatissima pizzaiola del buco in piazza della Repubblica. Mentre una gelida pioggia, scrive il giornale, all'esterno sferzava i muri del Duomo di Urbino, ieri pomeriggio all'interno, gremito dalla chiesa, si è idealmente trasformato in un caldo abbraccio diretto e familiare appunto di Manuela. In centinaia si erano riversati nell'edificio per dare l'ultimo saluto a una donna che ha rappresentato tanto per la città e non solo. In chiesa ieri c'era proprio tutta Urbino e queste sono le fotografie appunto che riguardano i momenti di questa cerimonia. Gambini, restando a Urbino, il sindaco ha scelto la sua vice, si chiama Marianna Vetri, l'assessore allo sport, prende il posto dunque di Massimo Guidi della sua stessa lista. Il sindaco dice le ho chiesto impegno e presenza. Settembre porta nuovi inizi e ieri è arrivata la nome del nuovo vice sindaco. La Vetri subentra Massimo Guidi dopo le sue dimissioni entrambi provengono dalla lista Liberi per cambiare. Poi andiamo a vedere andiamo a vedere l'altra pagina che sempre riguarda la politica però questa volta dal Corriere Adriatico. La foto di gruppo la vedete in questo momento sul vostro televisore riguarda la coalizione di centro-sinistra che si è presentata ieri mattina nella sala del Consiglio. I responsabili, anzi no, i responsabili. Chi ha fatto credere il governo la devono pagare, ribaltiamo i sondaggi e vinciamo i collegi di Pesero e Nord delle Marche. Dicono il sindaco Ricci e la segretaria del PD Rosetta Fulvi. Masini non teme Carloni. Candidato forte è vero, Carloni, ma ci divertiremo. Matteo Ricci è intervenuto per prima a questa conferenza stampa dei candidati di centro-sinistra parlando di una battaglia elettorale breve, insolita e iniziata nel pieno dell'estate. Tutti coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi oggi gli chiedono di attuare misure contro il caro energia. Sono stati irresponsabili e questa irresponsabilità la devono pagare alle urne, dice ancora Matteo Ricci. Questa è la pagina. Sotto mi pare ci sia qualche altra presentazione. Italia Viva e Azione. Tale e Fabri, il coraggio delle scelte. Anche qui parliamo di candidati, idee chiare sul programma e no alle ideologie. I candidati di Italia Viva, Azione, sottolineano che è necessario avere il coraggio delle scelte. E che l'alleanza Calendarenzi è un punto d'inizio e non solo funzionale al momento elettorale. Adesso invece andiamo a Mondolfo per l'altra pagina, dalla pagina del Carlino, per darvi una buona notizia. I mondolfesi sicuramente saranno contenti. Insomma, la Guardia Medica riapre i battenti dopo sei mesi di chiusura. A settembre saranno garantiti tutti i turni. come abbiamo visto, insomma, grazie anche ai neolaureati. Stesso regime a Fano Calcinelli a incastro tra Pergola e Mondavio. Mentre se non ricordo male restano fuori quelli di Vallefoglia e quelli di Gabice. Ora, anche qui, Valcesano, Corriere Adriatico, Guardia Medica riaperta a settembre, nuova linfa garantita dai neolaureati, operativo il presidio di Mondolfo, l'annuncio del sindaco, ma non sono escluse difficoltà in futuro. Chiudiamo con la pagina dello sport. Parliamo del presidente del Fano, Mario Alessandro Russo, che purtroppo ha avuto un lutto in famiglia. È morta improvvisamente la mamma. L'improvviso è scomparsa della mamma Francesca. Ha stretto tutto il popolo dell'Alma attorno al presidente russo, che ha ricevuto tanti messaggi di condoglianze e vicinanza anche da parte di politici fanesi tifosi Granata per questa grave perdita. Una notizia accolta con grande dolore dall'intera comunità casertana, riconoscente verso la signora Plastina per lo spirito di servizio dell'umanità che caratterizzavano la sua presidenza della sezione provinciale casertana dell'Aism. E Barbadoro poi racconta anche altro, ovviamente non solo di questo purtroppo triste evento. Direi che possiamo fermarci qua. Questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa. Sì, la rassegna si conclude qui. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale. Occhio alla notizia e che, come sempre, potete collaborare con la nostra redazione inviandoci le vostre segnalazioni al 338 4968250. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.